Vaccini anti-covid, la regione annuncia entro aprile tutti gli ultraottantenni saranno vaccinati e studia un nuovo cronoprogramma per coprire l'intera popolazione marchigiana entro la prossima estate. Gli anziani che fanno fatica a camminare potranno vaccinarsi a casa, i medici di base sono pronti e il prossimo fine settimana si potrà partire con la somministrazione delle dosi. Stop alle vaccinazioni nel centro Monaldi, giudicato inadatto e troppo piccolo. Da lunedì vaccini si faranno all'ex Ristò, dentro l'Iperconad, in uno spazio di 1200 metri quadrati e potranno vaccinare anche infermieri e assistenti sanitari. A Fanno la polizia scopre appartamenti a luci rosse e case occupate abusivamente, denunciato un uomo di 40 anni. All'Arsana, Borghese e Difano partono i lavori di sistemazione del primo tratto che arriva fino al ponte della ferrovia Adriatica e il piano illustrato dall'assessore ai lavori pubblici. Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17. Come avete sentito dal nostro sommario, il nuovo piano dei vaccini studiato dalla regione prevede entro la fine della prossima estate la somministrazione a quasi la totalità dei marchigiani. Allora vediamo nel servizio che ha curato Simona Zonghetti i dettagli. Si accelera sul piano vaccinale nelle Marche. La regione ha risonota la tabella di marcia che consentirà di completare entro aprile la prima fase per gli over 80 e di garantire entro l'estate l'immunità alla maggior parte della popolazione. Tutto sarà documentato nella nuova sezione pubblicata sul sito internet istituzionale. Attualmente il numero di vaccini effettuati si aggira sui 6.000 al giorno ma si conta di arrivare ad almeno 10.000 dosi grazie anche a quelle effettuate dai medici di medicina generale. Il cronoprogramma è suddiviso in 13 categorie con altrettante modalità di accesso. La diversa priorità nella somministrazione varia in base all'età delle persone e alla presenza o meno di patologie. Nelle scorse settimane è iniziata la vaccinazione degli estremamente vulnerabili che sono seguiti dal sistema sanitario regionale. Tra loro i pazienti dializzati e trapiantati che vengono chiamati dagli operatori e vaccinati negli ospedali. Chi avesse difficoltà a raggiungere i nosocomi può rivolgersi al medico di famiglia. Invece dal 29 marzo le persone estremamente vulnerabili che non sono seguite nelle strutture ospedaliere e quindi non sono convocate in automatico potranno prenotare attraverso una lista dedicata sulla piattaforma delle poste. Le liste poi verranno distribuite ai punti vaccinali ospedalieri che dovranno concordare gli appuntamenti. Tra le priorità del piano strategico rientrano anche i disabili gravi che saranno vaccinati ad aprile. Ai pazienti ricoverati nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private la somministrazione sarà effettuata senza prenotazione e a titolo gratuito da parte del gruppo Cost Care. Invece i disabili non assistiti dovranno rivolgersi ai medici di base che garantiranno la vaccinazione. Se il dottore non aderisce all'accordo regionale se ne farà carico il Dipartimento di Prevenzione dell'area vasta competente. Seguiranno entro il mese di aprile le prenotazioni dei conviventi e dei caregiver sia dei pazienti disabili che di quelli estremamente fragili. Fanno parte di questa categoria anche i genitori, i tutori e i affidatari dei minori di 15 anni che rientrano nella categoria di estremamente vulnerabili e che non potendo essere vaccinati direttamente saranno protetti tramite la vaccinazione dei familiari conviventi. Altra categoria per la quale verrà avviata ad aprile la vaccinazione è quella delle comunità residenziali. In questo caso le somministrazioni saranno eseguite nei punti vaccinali allestiti nelle sedi dell'Azor. A chiudere l'elenco del prossimo mese c'è la fascia di età 70-79 anni che potrà prenotarsi sul sito delle poste e vaccinarsi nei centri predisposti sul territorio. A maggio invece sarà la volta degli under 60 con più patologie seguiti nelle strutture ospedaliere. Loro saranno contattati dagli stessi ospedali. Per chi invece non è seguito da specialisti ma comunque con morbidità alla profilassi partirà dal mese di giugno e sarà necessaria la prenotazione. Sempre da giugno infine toccherà le persone di età compresa tra i 60 e 69 anni, mentre a luglio la fascia che va dai 16 ai 59. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha annunciato che a maggio e giugno verranno coinvolte anche le categorie economiche, le forze sociali, le imprese e gli ordini professionali. Intanto il bollettino, il bollettino consueto, quello serale, dei decessi. Sono 17 purtroppo quelli che non ce l'hanno fatta nelle ultime 24 ore. Tra le vittime c'è anche un'anziana di 83 anni residente a Pesero. Invece positivi rilevati nell'ultima giornata sono 621, di cui circa un terzo nella provincia di Ancona. Sale a 19,6% la percentuale di contagi rispetto ai tamponi testati. In lieve aumento anche i ricoveri negli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono saliti a 157, mentre quelli in semi intensiva sono scesi a 207. Il garante degli istituti penitenziari delle Marche, Giancarlo Giulianelli, ha fatto sapere che nel carcere di Villa Fastigi a Pesero ci sono 47 persone contagiate, molte delle quali ha sintomatiche o già negativizzate. Il focolaio è scoppiato dopo l'ingresso di un nuovo detenuto che aveva sintomi riconducibili al coronavirus. L'uomo è stato subito trasferito in ospedale e le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento. Nell'istituto di Pena sono scattati tutti i protocolli per il contenimento della pandemia, anche mediante il trasferimento delle sezioni interessate. Invece, nelle altre carceri della Regione Marche, la situazione sarebbe sotto controllo. E questo fine settimana partiranno i vaccini anche a domicilio, che interesseranno gli over 80, coloro che non possono muoversi, deambulare. Praticamente oggi abbiamo fatto il punto della situazione con Dario Bartolucci, segretario provinciale dei medici di famiglia. I medici di base sono pronti a partire, infatti dal prossimo fine settimana inizieranno le vaccinazioni a domicilio per gli anziani con più di 80 anni non deambulanti. Martedì sera in videoconferenza si sono confrontati circa 100 medici del distritto di Pesero, dove si registra un'adesione più bassa che si aggira attorno al 60%. Domani poi altra riunione con quelli di Urbino dove al momento ha aderito l'80-90% dei medici di famiglia, il 70% invece nel distritto di Fano. A spiegarci le modalità della vaccinazione Dario Bartolucci, segretario provinciale della FING, la federazione italiana dei medici di medicina generale. Ho stilato una mia lista che non coincide con la lista che mi è stata mandata dalla Regione, anche perché per due motivi, uno perché sono pochi, sono solamente sei e la seconda cosa è che tre di questi sei possono venire tranquillamente in ambulatorio con le proprie gambe. I pazienti, prosegue il dottore, non dovranno prenotarsi sul sito delle poste ma verranno contattati direttamente dai medici di base e le somministrazioni verranno effettuate al di fuori dell'orario di ambulatorio. Io per esempio sabato comincerò a fare le vaccinazioni a questi ultrottantenni non ambulabili, faccio chiamare dalla segretaria che li faccio avvisare se chiaramente se lo vogliono fare e poi mi faccio tutto un percorso, devo vaccinare 11 persone, quindi mi faccio tutto un percorso preordinato per andare casa per casa a fare queste vaccinazioni. Poi torno e inserisco tutti i dati sul portale. Martedì inoltre è stata anche l'occasione per illustrare una miniguida. Il referente del CUP Stefano De Angelis ha spiegato le modulistiche da compilare e l'inserimento dei dati sul sito delle poste. Sarà il medico stesso poi che in base allo stato di salute e alle eventuali patologie dei pazienti sceglierà se somministrare Moderna o AstraZeneca. Siccome le dosi una volta aperto il flacone sono 11 e sono da fare in sei ore, quindi andrebbero o si dividono un flacone in due colleghi, quindi uno ne fa 5 e l'altro ne fa 6, oppure cercare di farli in maniera veloce in modo tale che una volta fatti si ritorna in ambulatorio e si va nel sito delle poste e si inseriscono tutti i dati che sono stati raccolti al domicilio. Bartolucci infine ha spiegato le difficoltà della categoria anche se non si percepisce dall'esterno, ha detto siamo allo stremo dai tamponi ai vaccini influenzali, dalle chiamate alle visite l'attività non si ferma mai. Con il telefono aperto 24 ore su 24 anche il sabato alla domenica capisco che molti colleghi siano arrivati al burnout e quindi anche una piccola goccia fa traboccare il vaso. Però mi sento di dire che questo è un passo importante per far vedere che i medici di medicina generale ci sono e sono al fianco dei loro pazienti. Intanto domani a Pesaro inizieranno i lavori di allestimento del nuovo punto vaccinale all'interno del Rossini Center. Angelica Panzieri. Stop alle vaccinazioni nel centro sociale Monaldi di Pesaro. Oggi era l'ultimo giorno dedicato alle somministrazioni. Da lunedì 29 marzo la campagna vaccinale proseguirà all'Ex-Risto, un locale di 1200 metri quadrati all'interno dell'Iperconad in via Gagarin. Dopo il sopralluogo di Asure Comune, andato a buon fine, da domani a domenica gli addetti ai lavori inizieranno ad allestire l'area, nella quale aumenteranno anche le postazioni vaccinali. È una situazione molto più funzionale rispetto a quella precedente che in qualche modo era stata allestita al volo. Qui, passando nel ricercare quello che poteva essere il sito più idoneo come amministrazione comunale, abbiamo interpellato i responsabili della galleria che si sono subito messi a disposizione della comunità, colgo l'occasione per ringraziarli. La cosa importante è garantire la temperatura fresca in estate, calda in inverno. Come amministrazione ci siamo messi al lavoro, abbiamo dato il nostro contributo attraverso il lavoro del centro operativo, dei volontari della protezione civile, che saranno disponibili 20-25 unità ogni giorno, a titolo gratuito ovviamente, per gestire l'utenza. Come amministrazione comunale ci siamo fatti carico delle spese di energia elettrica, quindi anche noi facciamo la nostra parte, come è giusto che sia in un momento come questo. Abbiamo anche raccolto una piena disponibilità da parte di San Italia di avere un eventuale secondo punto vaccini di circa mille metri quadri, con tutti i servizi, compresa condizionatore, bagni, ascensori, tutto quanto può servire, qualora le autorità sanitarie e la Regione decidessero su Pesaro di aprire il secondo punto. Le postazioni previste sono sei di segreteria, otto postazioni mediche e dieci postazioni per i vaccini. Devo dire che c'è stato un grande lavoro da parte dei funzionali di ASUR per riuscire a mettere in piedi un'organizzazione come questa, dove devi trovare personale che lavorerà il sabato, la domenica, Pasqua, quindi l'impegno da parte di tutti dovrà essere per 365 giorni all'anno senza avere più soste o momenti di stop. Le autorità sanitarie hanno sviluppato un progetto di entrata, di uscita all'interno della struttura, all'interno dell'ex ristò e la galleria, nei 1200 metri messi a disposizione ci sarà uno spazio per l'attesa e poi ci sarà ovviamente uno spazio per i famosi 15 minuti post vaccino. Le condizioni sembrano ottimali, ci auguriamo che vada tutto per il meglio. E a dare manforte arriveranno, scenderanno in campo anche gli infermieri e gli assistenti sanitari. Ad annunciarlo il consigliere regionale del PD, Andrea Biancani. Proprio in questi giorni è stata approvata una mozione che ho presentato in consiglio regionale, che è stata sottoscritta anche dai consiglieri del Partito Democratico, ma alla fine è stata votata dall'intero consiglio, che chiede un maggior coinvolgimento degli infermieri e degli assistenti sanitari per le vaccinazioni. Noi sappiamo che nelle prossime settimane arriveranno migliaia e migliaia di vaccini e sarà importante riuscire poi a utilizzarli. Per poterlo fare sicuramente dovranno essere aumentati i punti per la vaccinazione, ma soprattutto dovranno essere aumentati i professionisti che sono in grado di fare i vaccini. È per questo che abbiamo chiesto di poter consentire agli infermieri e agli assistenti sanitari di poter lavorare anche al di fuori del proprio horario di lavoro, cioè lavorando quando non lavorano per il servizio sanitario regionale, facendo vere proprie prestazioni professionali. Questo appunto gli consentirebbe, come è già stato fatto per i medici, di poter continuare a dare il contributo. Infermieri e assistenti sanitari hanno un rapporto di esclusività, quindi è necessaria una deroga. Da questo punto di vista abbiamo chiesto quindi alla regione di attivare subito un incontro con i vari sindacati per definire tempi, modalità e soprattutto quelli che sono i costi che sono necessari per poter attivare quanto prima, cioè già dalle prossime settimane, questo tipo di coinvolgimento. Adesso la cronaca. La Polizia di Fano ha scoperto tre case a luci rosse e diversi appartamenti occupati abusivamente. Un quarantenne è stato denunciato. Erano in Borghese mentre stavano effettuando degli accertamenti, quando una donna li ha visti e le ha invitate ad entrare scambiandoli per clienti. Era quella una delle tre case a luci rosse scoperte dagli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, che nei giorni scorsi hanno eseguito servizi di monitoraggio del fenomeno della prostituzione. Oltre a quell'abitazione di Baia Metauro in cui risedeva la straniera, i poliziotti hanno individuato anche altri appartamenti, addibiti a luoghi di incontro e autonomamente gestiti dalle persone che li occupavano. Partendo dall'esame di alcuni annunci pubblicati sui siti online e sulle riviste, le investigazioni hanno indirizzato gli agenti nella zona di Sassonia. In due case c'erano delle stanze riservate in cui avveniva l'attività di meretricio. All'interno sono stati identificati un uomo e tre donne, dai 23 ai 50 anni, tutti sudamericani e regolari sul territorio nazionale. Su di loro verranno svolti ulteriori approfondimenti per verificare il mantenimento del permesso di soggiorno rilasciato per ben altre attività. Inoltre il personale della Polizia di Stato ha eseguito mirati controlli in alcune zone residenziali e industriali della città. Con la collaborazione dei vigili urbani all'alba sono state fatte delle verifiche in diversi casolari e capannoni artigianali abbandonati situati nelle zone di San Lazzaro, Centinarola e alla foce del fiume Arzilla. In alcuni edifici sono state rinvenute tracce di recenti insediamenti abusivi. Per questo sono stati sensibilizzati i proprietari a mettere in sicurezza gli immobili chiudendone gli accessi. Inoltre in un capannone industriale in disuso nell'area artigianale di San Lazzaro, gli agenti hanno rintracciato un quarantenne di nazionalità rumena, già noto alle forze dell'ordine, che in un contesto di assoluto pericolo e di precarietà igienico-sanitaria aveva ricavato un alloggio provvisorio, utilizzando un letto matrimoniale, una stufa a legna, una bombola del gas e altri su pellettili. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di terreni o edifici. Invece la Guardia di Finanza di Pesero e Urbino ha sequestrato 13.500 prodotti tra bigiotteria, accessori moda e oggetti per la casa, risultati non conformi alle norme del Codice del Consumo. tra gli articoli sequestrati anche mille mascherine prive di etichettatura e dunque potenzialmente pericolose per la salute dei cittadini. E adesso, sempre a Fano, parliamo del restyling della Darsena Borghese, uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici del porto di Fano. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici ha elencato gli interventi del primo stralcio. Filippo Pucci Proseguono senza sosta i cantieri nel comune di Fano. Dopo la passeggiata di Sassonia, la ciclabile di Ponte Sasso e il parco di Carrara, ora spazio la Darsena Borghese, uno dei luoghi più belli e storici della nostra città e che dalla giornata di martedì ha visto l'insediamento degli operai. Un restyling senza precedenti perché qui verrà riqualificata l'intera pavimentazione, verranno consolidate le strutture di contenimento ed infine verrà installata una nuova illuminazione a LED. Questa mattina, all'interno del cantiere, l'assessore ai lavori pubblici Fabio Latonelli ha elencato il primo dei tre stralci, ovvero il tratto che dalla Darsena arriva fino al ponte ferroviario. L'intervento prevede la messa in sicurezza, il consolidamento dei terrapieni, dei muri che sostengono questo spazio. Sarà un restauro di tutte le scalinate che da via Nazareo Sauro scendono verso la passeggiata e verso la Darsena. Inoltre ci sarà un grosso intervento di illuminazione, sia per la sicurezza della passeggiata, ma anche un'illuminazione scenica, tutte le barriere architettoniche, infatti la discesa che porta verso il piazzale della Darsena verrà completamente pavimentato in modo che anche per il diversamente abile è più facile scendere. Inoltre, aggiunge l'assessore, sarà rivista tutta la parte del verde con la piantumazione di arbusti e la cura dell'erba e che successivamente, all'interno dei terrapieni, verranno installate delle nuove panchine in pietra d'istria. Il costo dell'opera è di 250.000 euro, di cui 75.000 euro è un finanziamento che siamo riusciti ad ottenere dal GAC Marche, del gruppo azione costiera delle Marche. I tempi invece, noi vogliamo assolutamente finire i lavori che riguardano il piazzale antistante la Darsena entro giugno, in modo da lasciarlo fruibile e libero per la stagione estiva, per tutte le attività che ci sono durante la stagione calda. Mentre proseguiranno anche oltre, lungo la passeggiata. Il progetto poi continuerà con il secondo e terzo stralcio, ovvero la parte che dal ponte ferroviario arriva fino alla Capitaneria di Porto e il terzo stralcio vedrà l'intera riqualificazione della parte opposta al camminamento. E dalla Darsena al Canale Albani è nel Green Power annunciato che provvederà prima di Pasqua a rimuovere gli alberi caduti all'interno del canale nei giorni scorsi, ripristinando l'argine ed eliminando alcune piante secche e pericolanti. I lavori partiranno lunedì 29 marzo nel tratto di Viale Kennedy, compreso tra Via della Giustizia e Via Morosi. Durante le manovre di abbattimento non saranno consentiti il parcheggio e il transito veicolare. E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare le congratulazioni a Valeria Patregnani di Fossombrone che questa mattina si è laureata in Scienze motorie per la prevenzione e la salute. Allora prima di salutarci vi ricordo che tra poco dopo la pubblicità e le previsioni del tempo ci sarà in occasione del Dante D un approfondimento nello studio di Fano TV su Dante e lo scrittore Fabio Tombari dal titolo Fabio Tombari dipinge Dante con Maria Flora Gianmarioli, Claudio Pacifici e Marco Florio. L'informazione invece sul canale 17 torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa, il commento e il giornale. Arrivederci.